La soluzione è la comunista di sinistra, cioè un mestre di sinistra, uno che crede che la soluzione, siccome ce l'ha nella testa, allora il più è fatto, il più è fatto, se l'hai capita l'hai già poco, e non capisce l'attardarsi, se non come del diaffermismo oppure riformismo, è la stessa psicologia, la stessa fatica a cui ci si vuole sottrarre con un colpo di genio, e torno a dire, in Gentile, quello che dice di Gentile, io ci sento proprio quello che diceva dei romantici. Facile superare i conflitti con una parola, per finire con attaccati al campo, ma per forza. Naturalmente la parola che usava dei romantici non era atto puro, ma era, diceva, il concetto di terzo superiore. C'è sempre un terzo superiore un'unità spirituale superiore. Un'unità spirituale superiore. C'è sempre un terzo superiore. Il mondo si sta scannando fra rivoluzionari e nazionali cattolici. No, non importa. C'è il terzo superiore, ce l'ho io in testa e questo risolve tutto. Ottimo modo per sottrarsi alle sfide delle, alla dialettica di mediazione di immediatezza e per finire attaccati al campo di dei fattenti, cioè per santificare ciò che esiste. E' quello che fa Gentile, santificare l'esistenza. C'è la guerra. La guerra è un patto spirituale supremo in cui la filosofia idealistica schianta le filosofie positivistiche e liberali. Ci parte che la guerra fa la Germania e l'unità della Francia. E c'è toccato pure essere alleati con quelli là, quando è evidente che per servizio lo stacco tedesco. Il partito filosofico italiano era un partito filo tedesco. Croce, che era... E appunto un guicciardiniano che dice io non ho mai partecipato con la canea antitedesca che è avvenuta un anno prima della Repubblica. Naturalmente essendo io patriota dovremmo stare con l'Italia, ma non avrete da nemmo una parola molto maggiore. E' gentile, più o meno la stessa cosa. Gentile schierà sul resto del cammino, allungano i grandi giornalisti. E' come il suo regno. Tu prendevi il cammino e ti trovate il suo regno. Rimaneva Valgini, che voi non sapete chi era. Beh, un allievo diretto di Carducci, che faceva un bambino e lo scriveva ancora su un testo del cammino. Fino a metà degli anni, fino a 56, 57, sul cammino scriveva, c'era la terza pagina, scriveva un'analogia. o gentile. E dunque, è davvero caratteristico, quaderno 11, davvero caratteristico. C'era una parola adoperata in senso positivo e favorevole persone. E' lo spontaneità. La stessa parola, spontaneità, quando si parla di gentile, è vista come qualche cosa di negativo. Qui c'è la terribile critica comunista allo spontaneismo. Che può essere lo spontaneismo di sinistra, con tutti quelli che ci potete attaccare, ma è anche lo spontaneismo fascista, fascistoide, di gentile, dove lo spontaneismo vuol dire, appunto, un pensiero che non si pone in problema della trassi perché afferma di essere già trassi. Allora, gentile, tu non stai inverando la filosofia nella trassi, come si deve fare, come sappiamo fare solo noi marxisti. Tu stai semplicemente distruggendo la filosofia e la stai trasformando nella benedizione a tutto quello che succede. Ed eccoci, appunto, ridotto a scherano dei fascisti. Suggentile sono abbastanza intransigenti i comunisti, che, ripeto, di solito i figli amano di rispetto. Come noto, gentile, è stato ucciso deliberatamente dal gruppo di comuni ministri, dopo che la sua condanna a rotta era stata annunciata su un'unità tra le destine dal concetto marchese. Che voglio sperare sia il nome a voi noto, uno dei due grandi latinisti della prima metà del Novecento, l'altro era Apparatore, che invece la faccia. Il concetto marchese era latinista e comunista, insegnata a Fadova, ed era un'autorità nell'antifascismo accademico, rispetto alla quale a lui si inclinava anche Bobbio, che insegnava a Fadova anche lui, in quegli anni, ma era giovane. Il concetto marchese scrive l'articolo, cioè lui ha, il senatore gentile, lei ha traduto, ha traduto, la sua colpa è stata riconosciuta e il popolo italiano ha già emesso la sentenza. E definisce l'articolo. Poi, questo articolo viene riprodotto in volantini, cioè investiti dal comunista, in questo genere, e dopo la parola che il popolo italiano ha già emesso la sentenza, e chi ha redatto in volantino, per essere chiaro, ci ha messo conoscenze. conoscenze. E tutti altri diciano hanno ammattato in bestione filosofica. Perché per loro, perché per loro, per i nazisti italiani che erano disposti a prendersi tutti, perché credevano di essere capaci di andarci tutti, di riciclare tutto. Per loro, gentile, uno che non si pone, la questione della mediazione, è un dissenio. La questione della mediazione. Cioè, con tutta la potenza che vuoi mettere nella filosofia, nella tesi secondo cui il reale e razionale vuol dire diventare, vuol dire, attraverso quale, devi essere capace di fare analisi concreta della tesi. Altrimenti stai proprio tradendo. Stai tradendo la parte del proletariato, ma stai tradendo dopo tutto, tutta la filosofia di te. E quello che ha detto, no, io l'ho in vero o in me. Io l'ho in vero o in me. Cioè, da cartesi un po' non si è fatto altro che dire quello che, in modo implicito, quello che dico io oggi in modo esplosito. che pensare ed essere sono la stessa cosa. E su questo arriva Del Noce, con suo reno del 92, sui cittadini della rivoluzione, che è, Del Noce è un cattocomunista. Cioè, è un cattocomunista, un po' non si è un cattocomunista, un po' non si è un cattocomunista. E lui è anche il maestro universitario, un po' non si è un cattocomunista, mentre è diventato davvero relazionario alla fine della vita. E va bene, anche queste sono cose che capitano. Diciamo che, a un certo punto, ha sposato con troppa barrenza delle teorie semplificatorie del quale ha fatto tradurre in italiano un libro, si intitola La nuova scienza politica, che è un libro americano del 1993, che non ci ha fatto tradurre nel 68, un editore tovinese poco noto, che si chiama Rockle, e che è un libro che non ha avuto praticamente fortuna in Italia, ma quel po' che ha avuto, l'ha avuto negli abiti di cattolicismo tradizionalista. o di irregolari della vita. E sulla base di quelle teorie lì, per noi ci dice che, come vi dicevo, gentile e granice sono la stessa cosa. Cioè, sono due esiti della modernità. apparentemente contrapposti, ma in realtà portatori della medesima idea di fondo, cioè che la filosofia consiste nella distruzione della trascendenza e nella tendenza a farsi passi passi. Daccartesi o in po' non hanno fatto altro che questo modernità, dice del monce, ma non hanno fatto altro che questo. Distruggere con la filosofia distruggere la trascendenza e portare la filosofia dentro il mondo fino a che essa coincide con il mondo. attraverso varie vie, che a questo punto sono poco importanti. Certamente il marxismo è una via potentissima, ma anche il nazionalismo moderno è uno scherzato. E naturalmente tutto ciò è l'archivismo per Fregory del noce. Perché l'archivismo? Perché vuol dire far fuori l'essere. Se l'essere, non mi parli estremotivo, è la trascendenza. Insomma, l'essere dovrebbe essere tutto. Insomma, se tu pensi che l'essere nella sua qualificazione, appunto, logicamente più forte sia la trascendenza e lo aggredisci e lo vuoi distruggere, se tu vuoi tornare, cioè se tu pensi che l'essere sia Dio, non fai altro che tentare di sostituire a Dio qualche cosa che tu puoi chiamare come vuoi. I valori, l'umanità, i diritti, la storia, il progresso, il comunismo, la tecnica, quello che ti fa. Ma quello che metti al posto di Dio sarà qualcosa di molto più debole e di conseguenza, come dire, attraversato l'immunità, tutto buccherezzato, instabile. La stabilità te lo dà soltanto l'essere trascendente, l'oggetto. Cioè, se tu fondi la storia sul soggetto, sei destinato a produrre instabilità. guardate, questo non lo dirà, proprio questo è il mondo dei controrevoluzionali cattolici. Cioè, il mestre mondo, che è un mondo, come dire, debole. però, naturalmente, hanno sempre ragione questi, perché se la loro tesi è la modernità, quanto più è certa di essere consapevole, tanto più è incerta e instabile, non fanno molta fatica. La modernità è instabile. La modernità è incerta. Perché è un sistema, non voglio dire aperto perché non è vero, ma è un sistema, un sistema di assi, di coordinate, che prevede pluralismo. Cioè, è un sistema monistico che esclude alternative, certamente. Ma dentro quel sistema monistico è previsto l'esistenza di pluralità di forze, una delle quali è il capitalismo. È prevista l'esistenza di soggetti, ma di soggetti associati negli stati, di soggetti unificati dalla nazione, di soggetti unificati e divisi dalla forma di forze. È fatta apposta la modernità di ospitare questa ricchezza e questa insieme di contrastanti volontà di potenza, che, se vogliamo, possiamo semplificare dicendo che è tutta volontà di potenza. che però, per essere davvero volontà di potenza, per poter valorizzare tutte le potenze, deve aprire a tutte le forme di manifestazione di potenza concepibili. Mentre l'anzia regime che non era per niente stabile, ovviamente è una costruzione ideologica dire che era stabile, facevano una rivolta al minuto. era stato tutto percorso... ... ... ... ... ... ... ... ...